Le problematiche e quindi le responsabilità sono tante ed è per questo che bisogna fare squadra, fare rete, a prescindere dall'orientamento politico, dalle ideologie e quindi io cercherò di coinvolgere tutti, destra, sinistra e cercherò anche un dialogo con 5 Stelle. Qui dobbiamo affrontare problematiche, dare priorità e risolvere, dare risposte ai cittadini rispetto a quelle che sono due questioni importanti, la viabilità e le scuole e quindi capite bene quanto è importante siano questi due settori. Lei è anche sindaco, che cosa si aspetta dalla provincia e che cosa può fare lei con la sua esperienza di sindaco per migliorare la provincia? Io cercherò di mettere a disposizione la mia esperienza di sindaco di una grande città, da 7 anni sono sindaco, ho anche un'esperienza da consigliere provinciale prima della Del Rio e dopo la Del Rio e quindi cercherò con un'umiltà e modestia di mettere a disposizione al servizio, perché è proprio un servizio, essendo una carica totalmente gratuita, al servizio di questa comunità. Spero di essere nell'altezza ma comunque ce la metterò tutta. Che provincia trova? La provincia credo che l'amministrazione di Marco abbia nell'incertezza gestito questa fase di assoluta incertezza che oggi c'è tuttora rispetto a quelle che era la diforma del Rio, dove un giorno sì e l'altro pure non si sapeva se andare avanti e come andare avanti. Quindi devo dire che ha fatto un grande lavoro e questo lavoro bisogna continuarlo, ovviamente insieme a tutte quelle problematiche che non sono state affrontate e quindi grande ascolto dei territori e priorità. Aree interne sicuramente da curare, soprattutto dal punto di vista della viabilità? Certamente, assolutamente le aree interne devono essere ascoltate, i piccoli comuni soprattutto e essere loro di supporto su tutte le questioni, anche quelle questioni che non attengono alla provincia, essere un po' il fratello maggiore di un sindaco quando quel sindaco si vede perdere servizi, che possa essere un ufficio postale, che possa essere un tribunale, che possa essere un ospedale al fianco delle comunità. non solo per quello che ci compete.